La notizia è che no, non c'è il rilevamento di fase. L'autofocus della GH6 è ancora a contrasto di fase. Qualche giorno fa ho avuto il privilegio di partecipare alla conferenza stampa di presentazione della GH6 che si è tenuta a Wiesbaden. È stata illustrata questa macchina che è strepitosa, iperprofessionale, favolosa. Ma qui non mi voglio dilungare sulla scheda tecnica della macchina perché ci saranno mille mila videomaker più competenti di me. Io qui voglio parlare dell'autofocus perché durante l'incontro, durante l'evento non è stato affrontato più di tanto come tema e io ho posto alcune domande. E Taku Ichikawa mi ha risposto, leggo perché riporto testualmente, che la GH6 non è equipaggiata con il contrasto di fase ma è perfettamente bilanciata tra qualità d'immagine, prestazioni autofocus grazie al nuovo motore, tempo di sviluppo e prezzo. Poi aggiunto anche, leggo ancora, questo non vuol dire che non verrà implementato il rilevamento di fase. Lumix continua ad esplorare tutte le possibilità per il futuro, incluso il rilevamento di fase. La cosa importante è continuare ad evolvere per un AF più pratico e performante e noi lo stiamo sviluppando al momento. Attendete fino a quando potremo fornirvelo. Da ciò che ci ha detto Taku Ichikawa, cosa possiamo dedurre? Che il processore garantisce una velocità dell'autofocus molto maggiore rispetto alle precedenti versioni della serie GH. Quindi se Panasonic è un gruppo che fattura 54 miliardi di euro l'anno ed è leader mondiale di macchine che fanno video, io mi fido, però non vedo l'ora di provarla, con le mani, per poterlo constatare di persona. Seconda cosa che abbiamo capito è che lo stanno sviluppando. È attualmente in fase di sviluppo e arriverà, non si sa quando, ma arriverà. Poi la macchina è pazzesca, non mi dilungo, però sappiamo che registrerà in 5,7K, in 5,8 anamorfico, in 4,2,2, in 5,7K a 10 bit, a 60 fotogrammi al secondo, senza avere problemi di surriscaldamento perché ha una ventolina, seppur pesi intorno agli 800 grammi, e comunque è waterproof nonostante la ventola, quindi probabilmente tutto il sistema di raffreddamento è esterno alla macchina, e quindi anche se prende acqua non è un problema. E poi, ecco, dal punto di vista delle usabilità, un'altra cosa su cui si sono soffermati poco, ma sono girate un paio di immagini interessanti, che il sistema del display superarticolato della Panasonic, che l'ha resa famosa per i videomaker, è migliorato ulteriormente perché gli hanno aggiunto un piano basculante su cui è fissata l'articolazione del display, che permette di inclinarlo, ciò sposa i vantaggi dei sistemi tiltabili delle reflex, ad esempio, che permettono di avere il display in asse sull'ottica, e permette di avere il display superarticolato, ribaltabile in avanti, questo anche quando ci sono i cavi collegati, perché basta inclinarlo e poi girarlo, e quindi anche con tutta la cavetteria collegata all'innesto HDMI, ad esempio, che è di dimensioni standard e ha tutto il suo sistema di attacco sicuro e professionale, noi potremmo avere il display orientabile, sia in avanti che indietro, che tiltabile, eccetera, senza tutti i limiti che avevamo con la GH5 prima. Quindi mi perdonerete se in questa sede per brevità non ho affrontato la scheda tecnica di questa macchina pazzesca, ma voglio veramente averla in mano, parlarne dopo averne avuto esperienza personale. Quindi a presto per una prova provata della macchina e iscrivetevi per non perderla. Ciao ciao!